Dopo la partecipata manifestazione ambientalista dei giorni scorsi, gli studenti del liceo scientifico Melchiorre Delfico di Teramo hanno dato vita a una nuova mobilitazione. Armati di guanti e buste si sono trasformati in etturbini operatori ecologici per pulire e conferire un nuovo look al Parco Fluviale, una delle aree verdi più belle e attrattive della città. Una giornata diversa, infatti noi abbiamo deciso di fare un'assemblea finalmente proficua sulla scia di quello che è successo poche settimane fa, ovvero appunto dello sciopero sull'ambiente. E quindi abbiamo deciso di fare qualcosa che mirasse più al punto e quindi ripulire tutti insieme il Parco Fluviale. Tutto l'istituto presente è una giornata importante che possiamo anche definirla la prima di un lungo ciclo? Sì, sicuramente. Noi vogliamo continuare su questa scia, vogliamo proprio fare qualcosa di proficuo per la città di Teramo che è quella che noi viviamo tutti i giorni. Il nostro obiettivo oggi era quello di appunto ripulire tutto il Parco Fluviale e oltre a ciò anche di cercare di abbellire il nostro parco che è così importante e rende così bella la nostra città piantando i bulbi che ci sono stati forniti dal comune. Oggi è questo quello che ha fatto il liceo scientifico delfico insieme al liceo coreutico statale. In questa giornata appunto che è l'assemblea dell'istituto dedicata e incentrata sulla cura dell'ambiente. Abbiamo invitato una rappresentanza del liceo classico che è appunto nello stesso istituto, quindi il liceo classico del Melchiorre delfico, e il liceo artistico, quindi tutto l'istituto Montauti delfico. E in futuro speriamo che tutte le scuole di Teramo si uniranno per fare questa cosa e migliorare proprio la nostra città. Il messaggio che vorrei dare è che molte volte basta un piccolo gesto ma ci vuole anche impegno, determinazione, è solo con queste cose che possiamo fare qualcosa che deve partire proprio da noi studenti che siamo i ragazzi che dovremmo vivere in questo mondo appunto, siamo il futuro.